Non è facile essere editori in Calabria, diciamo che è più che altro un'avventura, un'avventura che comunque deve essere vissuta con determinazione e con il coraggio di poter vincere una sfida che comunque è improbabile che non si possa realizzare. Noi stiamo lavorando fortemente con il nostro network per far sì che ci sia un'informazione soprattutto trasparente, perché per troppo tempo è stata fatta trasparire un'idea della Calabria che oggi è totalmente diversa.